Buongiorno, eccoci, siamo a Kathmandu, Nepal, siamo arrivati da poche ore nella capitale nepalese, domani saremo ancora qui in città e poi partiremo per l'Ukla e per il nostro trekking al campo base dell'Everest e all'obuce Peak. Oggi ragazzi siamo al tempio della Dea Kali, Pashin Kali, che è dove fanno, diciamo, sacrifici animali per la Dea Kali. Allora ragazzi, qui siamo fuori Kathmandu e siamo andati a vedere il tempio della Dea Kali, adesso stiamo salendo a un tempio di pista. Queste due giornate, in attesa dei bagagli, prima di partire per l'Ukla, stiamo passando così, stiamo visitando i dintorni di Kathmandu. Terzo giorno ragazzi, ci siamo trasferiti a Bakdapur. La buona notizia è che sono arrivati i nostri bagagli, quindi oggi ci facciamo la visita qua, in questa stupenda città dove il terremoto nel 2015-2016, non ricordo, ha fatto numerosi danni e domani mattina, stanotte, partiremo per trasferirci all'aeroporto e partire per l'Ukla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qua, dopo un po' di peripezie con voli, ritardi e quant'altro, siamo finalmente arrivati a Lukla e da adesso in avanti solo montagna. Eccoci, la prima tappa è finita, siamo a Mongio, 2.000 e quasi 900 metri di altitudine, abbiamo risalito la prima parte della valle, da Lukla fino a qua, circa 13 chilometri, il tempo si è un po' aperto adesso, quindi bene, e domani saliremo alla capitale degli Sherpa che è Namce Bazar, che rimane là sopra. ahhhh... 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 Bazar, capitale del Kumbu e degli Sherpa, siamo a 3.450 e siamo saliti da Mongio, qua giocano a pallavolo come se nulla fosse e via! Nonostante questi bei boschi siamo a quasi 3.600 metri di quota, staremo qui due giorni, domani faremo un giro intorno ai 4.000 al paese qua sopra per acclimatarci, poi torneremo ancora a dormire a Namce e il giorno successivo poi entreremo verso il Kumbu e verso Dole. Allora giornata oggi di acclimatamento, stiamo salendo a Kumjung, 3009, qua il detto che abbiamo già imparato è bistari bistari, che è piano piano, perché anche se ci sono le piante e sembra di essere in una quota diversa è meglio prenderla con calma. ahhhh 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 a awhile Il nostro giro di acclimatamento a congiù, quasi 3.900 metri di quota, palma, e questo è Namche. Eccoci ragazzi, siamo arrivati a Dole. 4.100 metri di quota, questo pomeriggio nuvoloso, ma come tutte le giornate, la mattina sereno e il pomeriggio si annuvola un po', quindi speriamo che anche domani mattina faccia la stessa cosa. Musica a Cermo, la nostra meta odierna. Abbiamo davanti qua il Cioio, che i prossimi giorni da Dragnag entreremo lungo questi altipiani per scavallare questo gruppo di montagne e entrare nella valle di Lobuce e andare poi alla piramide e arrivare poi al campo base dell'Everest. Il bello dei loggi in Nepal è che hanno la crioterapia incorporata nella mezza pensione. e stanotte in camera il mio uomo gli dava meno due, meno due è un freddo porco, però la giornata è bella. Musica Eccoci qua nel nostro giro di acclimatamento pomeridiano. Questo è il ghiacciaio immenso del Cioio, questo ghiacciaio morenico del Cioio, la sud del Cioio, che è qua a 8200 metri di quota. e stiamo facendo un girettino pomeridiano di acclimatamento a 4800 metri di quota. Qua sotto c'è Gokyo, questo è il Rangio Pass, questo è il Gokyo Ri e domani invece andremo al Ciola Pass. Musica 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 Musica